Hanno sfilato mano nella mano al Festival di Venezia, ufficializzando così al mondo intero il loro amore. Brad Pitt è di nuovo innamorato e si è presentato sul red carpet, insieme all'amico George Clooney e alla moglie Amal, con la nuova fidanzata Ines de Ramon. La coppia, che avrebbe iniziato a frequentarsi già nel 2022, non ha incrociato Angelina Jolie, regina della mostra venerdì sera, nonché ex moglie di Pitt. Dopo il brusco divorzio da Angelina Jolie e i problemi con i figli, che gli hanno voltato le spalle, chiedendo la rimozione del cognome del padre, i rapporti tra i due sono sempre più tesi. Anche l'attrice ed ex moglie era presente in Laguna, appena un paio di giorni fa, ma il loro incontro è stato accuratamente evitato. Gli addetti ai lavori della mostra si sarebbero impegnati infatti per evitare ogni possibile incontro tra i due, impegnati in una durissima battaglia in tribunale. Ma Brad sembra aver definitivamente voltato pagina. Lui e Ines hanno iniziato a frequentarsi verso la fine del 2022, ma molto raramente sono stati fotografati insieme, specialmente durante eventi ufficiali. Quello di Venezia è il primo red carpet insieme. Sono stati immortalati mano nella mano al Gran Premio di Silverstone, lo scorso luglio, poi lui è stato avvistato in moto in Islanda e in visita dal suo amico George Clooney sul lago di Como, sempre con Ines. Proprio con l'amico George Clooney, ha presentato il film che li vede di nuovo insieme, Wolves, lupi solitari, fuori concorso a Venezia. Sabato Brad e Ines sono sbarcati insieme a Lido, come due veri divi, occhiali da sole, sorrisi, saluti alla folla. E poi via in motoscaffo, loro due soli, per una breve fuga romantica. Ma è domenica sera alla prima proiezione ufficiale di Wolves che l'attore ha stupito tutti presentando ufficialmente la sua Ines. Lei, sorridente e bellissima, ha sfoggiato un lungo abito bianco monospalla con dettagli arricciati, abbinato a una pochette di paillette argentata e lunghi pendenti. Ma chi è Ines Deramon? Ines è la vicepresidente del marchio di alta gioielleria Anita K.O. In Italia non è ancora un nome molto noto, mentre negli Stati Uniti è famosissima come designer di gioielli. Si è laureata in economia aziendale all'Università di Ginevra nel 2013. Dopo la laurea ha lavorato per Christia S. e per il gioielliere svizzero de Grisogono. Secondo marca, Ines Deramon è anche coach di salute nutrizionale presso l'Institut of Integrative Nutrition di là. Ines Deramon è stata sposata con Paul Wesley, noto soprattutto per aver interpretato Stefan Salvatore nella serie TV The Vampire Diaries erano fidanzati dal novembre 2017. A settembre 2022 hanno annunciato la separazione. Stando a quanto riportato da People, Brad Pitt e Ines formerebbero una coppia dal 2022. Stando a quanto rivelato da un insider a People, la coppia starebbe vivendo un periodo d'oro. Brad ha lavorato in Europa, così hanno trascorso molto tempo qui, ha dichiarato. L'insider ha aggiunto, lui fa sul serio con Ines. È davvero felice e ama trascorrere il tempo con lei. Lei è alla mano e piace a tutti.